8 giorni di grandi eventi fra cultura, musica e teatro. La quarta edizione del Festival d'Annunziano di Pescara proporrà anche concerti, convegni e appuntamenti dedicate all'arte. Il club previsto con il concerto dell'emergente cantante Achille Lauro. Questa mattina la presentazione a Pescara presso la sede della regione da parte del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Abbiamo usato alcuni dei colori più cari ad Annunzio per descrivere le quattro sezioni principali del Festival, sport, arte, musica e spettacoli. Crediamo di aver messo insieme un cartellone ampissimo, di grandissimo livello e prestigio e con un approfondimento culturale e storico che ovviamente sarà la sessione che guiderà il nostro direttore artistico che è Giordano Bulaquelli. Dal punto di vista musicale spezziamo su tutti i generi, dal jazz alla musica colta, al rock, al pop. Sono tutti spettacoli gratuiti ovviamente, tranne uno che è a pagamento, gestito all'ente manifestazione pescaresi, il concerto di Bruno Risarsi, i cui utili saranno riversati come già l'anno scorso al comune di Pescara per completare la riqualificazione nei comparti della pineta Danunziana, oggetto dell'incendio. Aggiungiamo anche una parte no gastronomica che negli interscambi di promozione dell'Abruzzo e dei luoghi d'Annunziani ci aiuta e quindi questo scambio con il Garda e con Asolo e noi mettiamo in campo la frittata fatta dai nostri chef e da Nicromito. Presidente, un appuntamento questo che cresce anno dopo anno? Sì, siamo alla quarta edizione e ormai il Festival ha una dimensione nazionale pienamente riconosciuta anche dal Ministero del Turismo che credo con ogni probabilità ci... ci aiuterà patrocinando il Festival d'Annunziano e anche aggiungendo una parte economica che ci permetterà una coda del Festival, soprattutto nei luoghi d'Annunziani, penso a Francavilla, a San Vito, a Chiedi, a Lanciano, che estenderà la partecipazione.